Ha preso il via la campagna di commercializzazione dell'arancia rossa di Sicilia IGP. Il frutto, conosciuto in tutto il mondo per le sue proprietà organolettiche e nutriaceutiche uniche, arriverà sui banchi dei frutti vendoli, su quelli della grande distribuzione organizzata e sulle tavole degli italiani già a Natale, grazie al positivo efflusso dell'Etna sulla maturazione delle rosse di Sicilia. Per celebrare l'avvio della stagione dell'arancia rossa, Gerardo Diana, il presidente del consorzio che ne garantisce la tutela, ha effettuato un'ascesa alle quote sommitali dell'Etna. A montagna, specie se accompagnata dalle nostre succose arance rosse, è un percorso di salute e bellezza all'altezza della sua fama. Una cartolina della Sicilia pulita e lontana da stereotipi tristi e triti che noi siciliani vogliamo e possiamo cancellare, conclude così il presidente. La stagione dell'arancia rossa di Sicilia IGP da quest'anno nella top 5 dei prodotti ortofrutticoli freschi più diffusi e apprezzati in Italia, avviata con la commercializzazione quest'oggi dell'arancia moro, entrerà nel vivo a gennaio inoltrato con l'arrivo del tarocco rosso e si concluderà in primavera con la dolcissima arancia sanguinello.